Grazie e benvenuti a tutti. È un grande piacere ricominciare qui alla Scuola Militare Teulier e ringrazio davvero il Comandante Daniele Pepe per la generosissima ospitalità. Prima di cedere la parola al padrone di casa voglio davvero ringraziare e significare che la Scuola Militare Teulier è un simbolo legato nel cuore di Milano legato al cuore del Centro Studi Grande Milano ed è grande Guglia della Grande Milano. A te Daniele la parola e grazie della tua generosa ospitalità. Buonasera benvenuti a tutti vi do un caloroso benvenuto da parte mia del mio staff e soprattutto dei cadetti che finalmente dopo tanta assenza abbiamo in presenza dall'inizio delle attività con l'anno nuovo. Quindi conduciamo la nostra battaglia quotidiana perché loro hanno bisogno di vivere questa realtà in presenza e voi altrettanto fornite inconsapevolmente uno stimolo enorme perché loro hanno bisogno di vedere la promiscuità e la continuità della vita con Milano. Quindi grazie a tutti per aver accettato e raccolto questo invito e grazie al Centro Studi ovviamente per aver pensato alla Scuola Militare. Un particolare ringraziamento alle autorità, al Sindaco di Milano e al Prefetto, il Dottor Saccone, che ci onorano della loro presenza. Siamo orgogliosi sempre di fare la nostra piccola parte e siamo orgogliosi del vostro operato. Enormemente contenti che lo Stato e che i cittadini di Milano siano rappresentati proprio da voi. In ultimo, per non togliere la parola alla serata, io direi che meritano un festeggiamento e un caloroso augurio i festeggiati, i premiati, perché conosco entrambi da tanto tempo, li conosco la loro partecipazione attiva e quindi sono doppiamente contento di essere il padrone di casa della celebrazione odierna. Grazie, buon proseguimento. Grazie, grazie davvero al Comandante Daniele Pepe per questa, non solo la generosa ospitalità, ma sempre per il calore e l'affetto che hai dimostrato nei confronti del Centro Studi. Davvero grazie. Cari ospiti, gentile autorità, Sua Eccellenza il Prefetto, grazie per la presenza, Dottor Saccone. Grazie naturalmente sempre a Beppe Sala, Giuseppe Sala, che mi aveva dato proprio la sua parola, che ci avrebbe raggiunto e l'hai mantenuta e davvero grazie, nonostante i tuoi impegni. Avremmo dovuto fare questo evento il 24 febbraio e l'8 marzo anche del 2020, dell'anno scorso, ed essere qui in questa forma privata e in streaming è comunque per noi un segno di ripresa davvero importante nelle difficoltà, quasi che si abbia davvero tanta voglia, nella voglia di normalità che abbiamo. In un mondo in cui gli stati di sorveglianza sanitaria parlano di tracciare, di testare, di isolare, come si parlava di libertà, galità, fraternità, beh, in un mondo in cui non possiamo stringerci le mani, non abbiamo seppellito tanti dei nostri cari e abbiamo diffidato, diffidiamo l'uno dell'altro, è un mondo in cui abbiamo assaggiato la regressione della civiltà. E da qui il tema del comitato strategico, proprio per le qualifiche dei nostri premiati, era amare Milano, il suo futuro libero e sicuro. Beh, non paia strano parlare di libertà in una scuola militare. È il luogo, caro Daniele, dove si insegna che la tua libertà finisce dove è inizio quella degli altri e tutte le volte che c'è conflitto le libertà si scontrano inevitabilmente proprio perché una prevale sull'altra. Ma se c'è rispetto della regola sovraordinata, la tua libertà, allora ci sarà rispetto dei diritti dell'individuo, nell'interesse supremo della collettività. I premiati di oggi sono una donna, un sostituto procuratore, simbolo anche lei di libertà e della nostra sicurezza. E quando parliamo di sicurezza non potevamo che anche rivolgerci al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che è un componente fondamentale della protezione civile. Non vi paia strano di aver scelto l'emblema di chi esercita la professione della potestà punitiva dello Stato per parlare di libertà? Ebbene, la scelta del conferimento a Tiziana Siciliano, uno dei momenti più elevati del suo pensiero, è stata la discussione assolutoria nel processo cappato, che ha dato il via alla sentenza della consulta e quindi alla legge del Biotestamento. Quando ha pronunciato in aula le parole, io c'ero, non vi è libertà senza la dignità dell'uomo, ci pareva che sono parole che risuonano soprattutto in questi giorni dedicati alla memoria. E se questo è un uomo, tu avevi detto, Tiziana, diceva Primo Levi, sono le parole utilizzate dalla dottoressa Siciliana per chiedere la soluzione che ha dato alla legge alla via del Biotestamento. Il termine sicurezza, poi, non a caso, avvicinato a una delle componenti più rilevanti della protezione dei civili dei Vigili del Fuoco, sicurezza, sinecura, senza preoccupazione. Grazie, grazie Dante, anche per la sua vicinanza di tutti questi anni al Centro Studi Grande Milano, perché ci sei sempre stato. Mai come quest'anno il termine è stato utilizzato e pervado un senso di smarrimento, perché ci si sente insicuri dentro l'animo e anche fuori. E nel mondo del lavoro organizzato, garantire la sicurezza dei lavoratori, del datore di lavoro, ci sono tante sicurezza, c'è la sicurezza alimentare, la sicurezza stradale, la sicurezza delle informazioni. Io mi occupo di responsabilità delle aziende, quanto è importante il concetto della sicurezza. E quindi da questo Covid, da questo anno, che è stato un evento rivoluzionario, un motore di distruzione creatrice, direbbe Schumpeter, bene, nel giro di pochi mesi ha obbligato le strutture produttive, economiche, sociali, politiche, istituzionali dei singoli Paesi a mettersi sulla strada del cambiamento. Abbiamo avuto il tempo di riflettere e imparare quanto i nostri sistemi siano fragili. E questa è una lezione soprattutto di noi che, vivendo proprio a Milano, si è sempre percepito, di chi come noi, insomma, si è sempre percepito come proprio parte di un sistema globale, di chi ha vissuto la metropoli sempre al massimo, in modo più innovativo. Noi non sapevamo e non potevamo concepirci come che aperti al mondo, come pezzi di un sistema globale fatto di relazioni, di interconnessioni che ci avrebbero permesso uno sviluppo migliore. Bene, ora è chiaro che a tutti quanto sia profondo l'attacco a tutti gli elementi costitutivi del modello Milano e quanto tempo probabilmente ci vorrà proprio per mettere insieme tutti i pezzi di questo modello e naturalmente innovarli e trovarli anche in una direzione nuova. E se c'è un senso della parola abusata resilienza, tanto da essere oggetto del nostro PNRR, a cui manca forse la terza R di riforme, che è quello necessario a questo Paese, bene, la resilienza è una capacità di adattamento alle situazioni di comprensione, però per trovare alla fine non una via d'uscita e non è il ritorno esatto al punto di partenza. Quindi più che all'abusato termine di resilienza, che peraltro gli stoici greci sapevano e conoscevano già, quando dicevano che insomma in fondo il dolore e la gioia della vita sono parte integrante della vita e quindi non puoi fare altro che reggerlo, substine e non mostrarlo, abstine. E quindi resilienza è poca cosa se accanto non c'è, non avremo doti di pietas, di accudimento, di soccorso e di cura. Dote, se mi consentite, anche un po' più femminili, di cui forse c'è bisogno un po' più di femminile. Oso chiedere anche una Milano in cui l'attenzione alle donne come trammerfrauen, come donne delle macerie, come nella seconda guerra mondiale in fondo. E' inutile parlare di natalità e poi rimandarci a casa, perché le donne che lavorano sono le donne che fanno anche i figli e che hanno una città che pensa ai loro bisogni. Abbiamo ricevuto l'altro giorno, e sono molto contenta e anche emozionata, la lettera di Ursula von der Leyen, che mi sono permessa di mettere alla vostra attenzione, che ha anche letto passi del nostro libro, Amare Milano come noi ante Covid e dopo Covid. Lei è madre di sette figli e ha avuto la sensibilità nei suoi impegni di scriverci questa bella lettera, veramente dopo aver letto le testimonianze del nostro libro. E noi questa sera poi vi faremo vedere le testimonianze dei nostri giovani che continuano ad amare Milano anche dopo il Covid e anche più di prima. Insomma, abbiamo conosciuto la fatica di vivere e mettere insieme le sconfitte della vita, mi pare decisamente più utile che resistere. E quindi Milano deve essere il motore del cambiamento di questo paradigma. Noi ne siamo convinti, lo può essere, noi continueremo ad amarla e lavorare, anche non solo per le next generation e anche per noi stessi e tanti anche, se permettete, che non ce l'hanno fatta in quest'anno. Perché questo dolore privato deve diventare un dolore pubblico e perché ci sia una Milano anti-Covid e dopo Covid e quella del dopo possa essere migliore di prima, più umana, più verde, più attenta al femminile e più attenta all'altro. E quando parlo di attenzione all'altro non posso che passare, ringraziarlo anche della presenza, il saluto del Cavaliere Ernesto Pellegrini che è Presidente Onorario del Centro Studi Grande Milano, grazie anche Ernesto di questo, che hai continuato a sfamare migliaia di famiglie, di anziani, di bambini in difficoltà. Grazie a tutti e grazie davvero di essere qui. Per me è un'emozione, una grande gioia. Grazie. Grazie. Io ringrazio la Presidente Mainini, l'amica Daniela, una donna semplicemente meravigliosa e lo dico per il tanto che fa per questo Centro Studi. Un caro saluto a tutti, permettetemi in modo particolare al nostro sindaco, al prefetto e anche al comandante Pepe, cui ricordo ancora quel bellissimo evento che lei mi ha regalato con una sala piena all'epoca di persone. Presentavo il mio libro perché è un libro che non è in vendita, però è mio punto e personale. Niente, amare Milano per me è semplice. Io sono nato a Milano, sono nato in un rione chiamato Morsenchio che nessuno sa dov'è, allora ve lo indico, è prima di Ponte L'Ambro, prima di Linate. E a Milano che mi sono fermato, dopo aver studiato nel 65, ho fondato una società di servizi che oggi, con 150.000 lire regalate, mi ricordo a me stesso, oggi dà lavoro a più di 10.000 persone. Ed è sempre a Milano che ho acquistato la mia squadra del cuore, l'Inter, che ho preseduto per circa 10 anni e che risulta, scusate l'immodestio, il presidente più vincente nei primi 10 anni di attività. È scritto qual è il futuro. Io non sono per niente preoccupato al di là della pandemia, qualche piccolo timore c'è, però abbiamo un grande sindaco, abbiamo un amico importante come il Rettore, resta qui presente, cioè abbiamo dei personaggi e quindi consentitemi di concludere che, complimentandomi intanto con i due festeggiati, procuratore sostituto, o procuratore aggiunto, chiedo scusa, che è più di un sostituto, chiedo scusa, siciliano è l'amico di sempre Dante Pelicano, che mi perdonerà, è pure interista. E quindi concludo dicendo grazie a voi, viva Milano. Adesso passo la parola alla presidente delle grandi guglie della Grande Milano, che è Manuela Sofientini, amministratore delegato di Electrolux anche. Sì, buonasera. Beh, innanzitutto grazie anche da parte mia a Daniela, a Roberto, per aver organizzato questo incontro, in un momento ancora relativamente delicato, nel quale, insomma, è un piacere incontrarsi in presenza e non essere relegati, come sempre, dietro uno schermo di un computer. È un incontro, ovviamente, che in me risuona anche il piacere legato al riconoscimento delle grandi guglie. Io sono stata onorata di questo conferimento un paio di anni fa e devo dire è qualcosa che ti rende ancora più orgoglioso di appartenere a questo gruppo selezionato di figure, o meglio, di uomini e di donne che, proprio grazie al contesto che la nostra città offre, un contesto ricco di stimoli, generativo, hanno potuto sviluppare professionalità, creatività, competenze che gli permettono di essere incisivi, distintivi, in contesti competitivi sia locali che internazionali. Chiaramente è un senso anche di responsabilità molto importante perché la mia gratitudine, che è molto nota alla città di Milano, è una gratitudine che va onorata con un impegno professionale e personale che rispecchi i valori della nostra città. I valori che poi nel premio sono sintetizzati e che vorrei ricordare perché il premio è un premio che ha una sua materialità, una materialità che però ha dei significati, è un premio che è costituito da una base di legno, mi spiace che in questo momento io non l'ho vicino ma lo vedrete a breve, di legno a rappresentare proprio le radici, le radici e quindi la storia di una città che ha espresso nei secoli un'eccellenza e un'importante capacità di incidere sulla realtà politica del nostro paese e non solo politica ma anche economica. Una parte del premio è acciaio e quindi esprime l'innovazione, la modernità, non stiamo parlando solamente di valori che appartengono al passato ma che sono veramente il riflesso anche di uno sguardo al futuro, quindi modernità e innovazione. E infine le guglie che poi sono quelle che identificano questo premio e le guglie non a caso sono trasparenti, sono leali, cioè trasmettono valori che io personalmente ma credo tutti noi intorno a questo tavolo riconosciamo all'autenticità di quello che le figure che hanno lasciato una traccia e lasciano una traccia importante nel loro operato sono qualificanti e sono molto vicine proprio a un'espressione della nostra città, di Milano, ma io direi un po' della Lombardia insomma. Quindi io con questo concludo e ringrazio ancora di essere onorata, di essere presente anche al conferimento di queste due onorificenze a due importanti persone che porteranno avanti un po' anche questo mandato. Grazie, buona serata. Grazie Manuela, ciascuno deve rischiacciare poi quando non parla cortesemente, grazie, perché altrimenti mi dicono che c'è qualche problema, perché siamo in streaming e quindi con l'occasione per ringraziare anche naturalmente tutti coloro che ci stanno seguendo e che non hanno potuto essere presenti all'evento. Passo adesso la parola ad un altro grande compagno di viaggio che è Ferruccio Resta, presidente degli ambasciatori della Grande Milano nel mondo e naturalmente rettore del Politecnico di Milano. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti coloro che ci seguono, che ci seguono ancora a distanza, grazie a tutte le autorità presenti. Il sottotitolo di oggi è Amare a Milano. Dobbiamo dire che era veramente semplice amare a Milano un anno fa, quando Milano era nel massimo splendore, quando era in pieno sviluppo di interessi, di turismo, di internazionalizzazione, di lavoro. Di tutti quegli anni dal 2015 al 2020 in cui abbiamo registrato veramente un grandissimo entusiasmo a Milano. Però oggi è veramente arrivato il momento che noi dobbiamo dimostrare di amare Milano. Perché ormai tra qualche settimana, il 20 febbraio, è passato un giro d'orologio completo. Abbiamo fatto 365 giorni di sofferenza, 365 giorni di emergenza. Tra l'altro, secondo me, nella scorsa primavera, quando c'è stata la prima ondata, eravamo sì scioccati dalla violenza, dell'impatto della pandemia, ma avevamo più energia, avevamo più determinazione, avevamo quasi più adrenalina nella volontà di reagire e di rispondere. Oggi, lo vedo guardando i 45.000 studenti del Politecnico, lo vedo con i miei colleghi, lo vedo con tutte le persone che si incontrano, c'è un po' più di stanchezza, c'è un po' di impotenza. Quindi oggi dobbiamo veramente avere uno scatto di orgoglio per vincere quella stanchezza, vincere le polemiche, vincere, non possiamo darla vinta a questo virus, e dobbiamo uscire da una logica di emergenza per decidere quale sarà la Milano che vogliamo amare domani. Io, i valori, li ha già sottolineati la Presidente Daniele Mainini. Fatemi semplicemente dire cosa sta rispondendo Londra e poi che cosa intendo io rispondere a Londra. Londra ha collegato tutte le università londinesi e ha cominciato a offrire una didattica a distanza. Ecco, io credo che noi non dobbiamo rispondere così. Noi dobbiamo ripartire dalla presenza, ripartire dalle relazioni, ripartire dal confronto, ripartire anche dai litigi, dalle litigate e poi dal riabbraccio dopo una litigata. Io credo che Milano, con quei valori citati, citati nella carta dei valori del grande studio, grande Milano, ma deve ripartire dalle persone, dall'individuo, ed è pertanto veramente un piacere per me essere qui a testimoniare con il Procuratore della Giunta Tiziana Siciliana, con cui ci eravamo visti in uno schermo durante quella primavera, e al Comandante Dante Pellicano, con cui ci eravamo sentiti anche loro per le emergenze sulle mascherine, a essere qua in presenza e a fare veramente un grande in bocca al lupo a loro. Grazie a tutti. Bene, adesso siamo perfettamente nei tempi. Siamo perfettamente nei tempi e passo quindi la parola, iniziamo la parola prima alle istituzioni, prima poi del conferimento dei premi. Do la parola quindi alla Sua Eccellenza il Prefetto Renato Saccone, grazie. Grazie Presidente Mainini, intanto grazie anche dell'introduzione, che è ricca di spunti, di riferimenti, di riflessioni e di indicazioni, di orientamenti, di sentimento anche, che non manca mai e che bene ci sia sempre. Ma grazie al Comandante Pepe è sempre anche da energia venire qui, soprattutto quando si incrociano quei ragazzi, che sono anche, dopo li vedremo, alcuni di loro. È veramente interessante ed è in sintonia col tema, trovo interessante e coraggioso come sempre, anche nei titoli Milano, perché amare Milano poi prosegue, cioè subito guardando al futuro. In un momento come questo, dice, amare Milano il suo futuro. Quindi la capacità molto milanese, il nostro paese è bello dovunque, vi dico, io ho girato dieci sedi e mi sono sempre sentito a casa, questa è una cosa che ho avvertito dovunque. Milano ha questa grande capacità di guardare al futuro e di non guardare all'ombelico, a se stesso. Un conto è avere i piedi saldi nelle radici, un conto è limitarsi a vedere se stessi, soprattutto in questo momento. In questo momento, secondo me, è fondamentale mantenere lo sguardo al futuro e al mondo, perché siamo tutti tentati di soffermarci solamente sul presente e sulle nostre condizioni, limitate nello spazio, quindi limitate nello spazio e nel tempo. Bella l'idea di dire se vuoi amare Milano guardi il futuro di questa città. E aggiungi due aggettivi. E qui una riflessione, perché ora non so Tiziana che ne pensa, ma spesso liberi e sicuri, no? Viene quasi visto in contrapposizione. Cioè l'ordine che limita la libertà. La mia formazione, la mia scelta, la mia attività è sempre stata improntata a scelte di fondo, a valore di fondo. È la libertà il valore fondamentale. La sicurezza è una condizione della libertà. Non può limitare la libertà. Beninteso la libertà, come la Presidente Mainini la ricordava. Che è il rispetto reciproco e quindi dei limiti dell'esercizio delle libertà. Però liberi e sicuri è un bel accostamento, con l'attenzione a tenere sempre presente che la sicurezza è condizione. Non è il valore fondamentale, a mio parere. A mio parere sono le libertà, la libertà che è l'aspirazione almeno, alla quale noi come Paese democratico, come cultura democratica, dobbiamo sempre tendere. E da questo punto di vista, l'idea è che siano grandi guglie a guardare al futuro e a questo futuro è ancora più interessante, perché dall'alto forse si vede meglio. E quindi lasciatemi concludere con il fatto che avete scelto altre due belle grandi guglie. Come dire, intanto perché l'impressione mia, ecco perché Tiziana Siciliano la conosco più in questi tempi milanesi, è che in un mestiere difficile, è ancora più difficile metterci passione ed equilibrio. Ed è una cosa che mi ha sempre colpito nella dottoressa Siciliana. Cioè è difficile ma è evidente che c'è passione, c'è dedizione e c'è grande equilibrio. Veramente non è facile. Se parliamo dell'Inter al Cavalier Pellegrini è difficile, io purtroppo non appartengo a quella schiera eletta, ma se invece parliamo di un mestiere... Com'è? Anche altri, anche il comandante, sono circondato, anche il sindaco. Quindi io non dirò mai per quale squadra faccio il tifo in questo contesto. E ecco, questa è una cosa che è una grandissima dote che consente di guardare al futuro con, almeno con speranza, non solo al presente. E poi due parole in più, mi perdonerà Tiziana, ma io Dante Pellicano lo conosco da una vita. Ci siamo incrociati, apparteniamo alla stessa casa madre. Lui ha il vantaggio che i Vigili del Fuoco sono amati da tutti, basta che dici che sono i Vigili del Fuoco, quindi quello è un vantaggio che si ritrova. Ma io aggiungo che, tra l'altro, in servizio ancora per pochissimi giorni, ma Vigili del Fuoco per sempre, non te lo toglierai mai, ovviamente, questa divisa. ma aggiungo che lui, per me, nei momenti in cui diversi, di spazi, di tempi, di luoghi in cui ci siamo incrociati, ha avuto sempre la caratteristica di un riferimento sicuro. E badate bene che nel soccorso, nell'organizzazione, non solo nell'intervento, bisogna sempre mantenere la capacità di essere lucidi, trasmettere, come dire, di fronte all'emergenza, la grande tonte che lui incarna, che rappresenta molto i nostri Vigili del Fuoco, è quella di avere una competenza, una preparazione tale che non cedi mai, che sei capace di improvvisare perché hai il controllo, che non cedi mai a momenti di difficoltà, non sei in quadri, orienti, sei una roccia. Ecco, lui è avvantaggiato anche dalla presenza fisica, quindi che lo aiuta, ma io lo ringrazio per tutti questi anni in cui ci siamo cercetati di lavorare insieme, è stata una fortuna, si lavora anche con piacere, oltre che con la dedizione di curare l'interesse pubblico, l'interesse della nostra collettività. Quindi grazie tantissimo a entrambi e grazie a chi ha avuto la capacità di scegliere così bene. Grazie, grazie eccellenza anche di queste belle parole e di questo sentito entusiasmo che sempre riesce a dare e anche e soprattutto della sua presenza. Ora, prima di dare la parola al sindaco di Milano, avevamo detto che siamo e vogliamo partire dai giovani. Voglio dire che oggi rappresentanza di tanti giovani del Centro Studi Grande Milano, la nostra gioia è davvero che si è riempito nell'ultimo periodo di tanti giovani e io sono molto contenta di questo segnale importante perché Milano del futuro è la loro naturalmente. E rappresentanza ho voluto Tia perché Tia è una ragazza meravigliosa che è venuta a Milano a studiare con una borsa di studio, ha lasciato un'America molto diversa, lei è un'afroamericana e mi diceva, ho avuto la fortuna di averla spesso con me a casa, erano due ragazze, mia figlia e lei, mia figlia ha scelto Londra, lei ha scelto Milano ed è rimasta lei con me, è rimasta lei con me, ma soprattutto dice che la sua America l'ha trovata a Milano e quindi io ho voluto Tia che questa sera ci fossi tu, anche il rappresentante di Claudia, che non può esserci, ma soprattutto il rappresentante di questi giovani che adesso vediamo in un video che dedico a tutti voi e se mi consentito soprattutto il mio sindaco, Beppe Sala. Grazie. Per il Centro Studi Grande Milano, Amare Milano non è solo un brand, è il segno distintivo di chi ha nel cuore il destino di questa città. Ebbene, abbiamo chiesto ai nostri giovani, i giovani del Centro Studi Grande Milano, alcuni di loro, guardate, non erano nemmeno nato quando nascevamo noi, perché amare Milano. Ne è nata una testimonianza bellissima, piena di entusiasmo, perché per questi giovani Milano è la possibilità, è il lavoro, è il movimento, è insomma la loro vita. Facciamolo però dire a loro, perché amare Milano? Amare Milano perché la sua frenesia può farti fiorire anche sopra mille strati di cemento. Amare Milano perché è una città viva, sempre in movimento, in cammino, anche quest'anno quando sembrava ferma. Amare Milano perché dopo aver tanto viaggiato, è l'unico posto al mondo in cui io posso pensare di conciliare le mie radici e il mio futuro. Amare Milano perché è un posto internazionale e aperto, innovativo e inclusivo. Un posto dove possiamo scambiare idee e crescere. È per questo che amiamo Milano. Amare Milano perché è l'unico posto al mondo che ha una bellissima cultura, una storia incredibile e un ambiente veramente accogliente. Grazie Milano! Amare Milano perché è una città piena di passioni e di impegno, dove ogni angolo racconta una storia ma guarda il futuro. Amare Milano perché è una meraviglia creativa in cui immergere la nostra irripetibile diversità, perché Milano accoglie e Milano crea e speriamo torni presto a risuonare di note e di magia. Amare Milano perché è la città che mi ha accolto e mi ha permesso di studiare e perché è una città dinamica che con i suoi ritmi ti travolge e non ti permette di rimanere mai fermo. Amare Milano perché è la mia città, la mia casa, con una finestra sempre aperta sul mondo e sul domani. È una città capace di cambiare grazie a innovazione, tecnologia digitale, creatività e design, senza scordare la tradizione. Amare Milano perché è un crocevia etnico-culturale, capace di sorprenderti e di insegnarti qualcosa ogni giorno. Amare Milano perché è chic ma senza tirarsela. Amare Milano perché è una città che ha tutto e c'è lei in ogni settore, dall'ingegneria all'arte all'industria e ti permette di scegliere chi vuoi essere e di perseguire i tuoi sogni senza uscire dalle sue mura. Amare Milano perché è una città che offre un sacco di opportunità e sa farci sognare in mille modi diversi. Amare Milano perché ci sono nata ed è la mia base sicura. Amare Milano perché è una città che ti propone i tramonti dai mille colori. Amare Milano perché è una città che mi offre tutto ciò di cui ho bisogno. Amare Milano perché è eleganza e un posto accogliente per tutti. Amare Milano perché ti dà sempre l'opportunità di essere chi desideri. Avete sentito quale e quante sono le ragioni per cui questi nostri giovani amano Milano? Bene, mi piace molto una frase di Churchill che diceva che il prezzo della grandezza è la responsabilità. Ebbene, noi abbiamo la responsabilità di consegnare loro una Milano ancora migliore di quella che è stata pre-Covid. Quindi non un modello da cui ripartire ma una vera rinascita. Ebbene, il Centro Studi Grande Milano si sente forte questa responsabilità e promette non solo ai nostri giovani ma a tutti i nostri interlocutori di lavorare proprio perché insieme noi si possa amare una Milano nuova e migliore di prima. Bene, e adesso passo la parola al Sindaco di Milano, Beppe Sala. Grazie, grazie a tutti voi. Qui per me ci sono amici tipo le due persone che mi stanno di fianco Ernesto e Daniela oppure persone che frequento per lavoro oppure persone che magari la prima volta vedo stasera. però c'è indubbiamente una bella Milano e io non voglio mettergli un ottimismo di facciata ma io sono al contempo preoccupato come è normale che sia ma sono anche ottimista per il futuro di Milano perché conosco le qualità di Milano le qualità dei milanesi le qualità delle istituzioni e di vari corpi che la compongono e noi siamo alla fine la sintesi di quello che questa città è arrivata ad essere attraverso una lunga storia abbiamo questa capacità di non so come dirlo in maniera più elegante ma di tirar dentro chi viene perché qua se facessimo una verifica dell'anagrafe di dove siamo nati o della nostra storia viene fuori quella che è Milano una città che accoglie ma che chiama al rispetto di alcuni principi e cioè che i diritti devono fare il paio con i doveri e cioè che il lavoro è un minimo comun denominatore fondamentale in questo siamo anche capaci siamo anche anche capaci di coinvolgere per il nostro interesse e il nostro interesse è l'interesse di Milano l'interesse dei milanesi è chiaro che oggi siamo chiamati a un impegno un po' particolare non c'è dubbio uno dei prerequisiti è che Milano la si ami davvero cioè se è vero quello che ci stiamo raccontando se è vero quello che dicono i ragazzi allora può diventare tutto un po' più facile io ve lo dico con estrema sincerità io non mi non ho deciso di ricandidarmi non voglio pagare parlare ovviamente di campagna elettorale ma solo per dare il mio contributo anche dal punto di vista umano non ho deciso di ricandidarmi per ambizione alla fine guardate ho 62 anni ne ho fatte tante di cose non in termini di ambizione non non cambia e non cambierebbe la mia vita ma ho deciso di ricandidarmi per un solo motivo ma alla fine è proprio l'amore per Milano e il rendersi conto che in questo momento non potevo comunque tirarmi indietro se ero se pensando in persona seria e onesta e dopo tante manifestazioni del fatto che Milano la amo ecco questo doveva essere un atto se non dovuto ma che credo tanti non avrebbero capito in fondo forse ho pensato che non l'avrei capito neanch'io e quindi sono qua sono qua sono qua però è chiaro che conto molto sull'aiuto da sindaco attuale sia chiaro ma credo che chiunque se sarò io o qualcun altro che mi succederà avrà bisogno dell'aiuto e della qualità che questa città esprime e stasera abbiamo l'esempio di due persone straordinarie Tiziana Siciliano e Dante Pellicano che sono oggettivamente un grandissimo esempio e quindi veramente anche complimenti per la scelta che è oggettivamente anche molto contemporanea anche molto corretta rispetto al problema che noi affrontiamo qui si parla di libertà e sicurezza ma capite come di fronte a un criterio generale il tutto vada portato alla contemporaneità oggi la libertà cos'è la libertà abbiamo sperimentato cosa vuol dire non essere liberi di muoverci e di fare la nostra vita normale noi viviamo arriviamo da una società che si è sviluppata giusto sbagliato che fosse ma sul presupposto di poter essere di godere dell'assoluta libertà di mobilità e poi molto anche sulla logica dei consumi di produrre qualcosa di consumare di consumare in senso lato anche cultura se vogliamo e tutto in un tratto abbiamo trovato siamo trovati di fronte al fatto che non è più così quindi l'idea della libertà è sacra ma la libertà l'ha declinata in quello che quello che che è il momento è la stessa questione della sicurezza possiamo anche sfinirci nel dibattito su quanto si è insicuri o sicuri o insicuri e l'amico prefetto può sfinirsi nella presentazione di dati che fanno vedere che la criminalità diminuisce cioè nonostante poi la percezione il dibattito ma non è sicurezza quella che purtroppo non abbiamo potuto vedere avere in questa in questa fase quindi la sicurezza sanitaria Milano è chiamata a un cambiamento straordinario non cadiamo nella sbagliata retorica di chi dice nulla sarà più come prima cioè noi dovremmo ritornare a ricreare un nuovo modello di città che però si basa su alcune cose che funzionavano e devono funzionare a Milano cioè l'attrattività di Milano non è una cosa banale proprio non è banale il tipo le ragioni per cui Milano è attrattiva noi siamo attrattivi perché siamo una città che si rinnova sempre siamo una città che dal punto di vista culturale ed educativo è straordinaria e ce ne vantiamo poco chi di noi si vanta del fatto che Milano è una città universitaria però se hai 200.000 studenti universitari su 1.4 milione di popolazione hai esattamente il ratio che c'ha Boston ora Boston è nota per essere una città universitaria Milano no ma noi queste caratteristiche oggettivamente ce le abbiamo abbiamo qualcosa che è veramente unico e cioè la capacità di coniugare il passato la storia l'arte la cultura 26 secoli di storia con la freschezza di chi affronta con creatività le nuove sfide che il mondo propone perché noi siamo una città creativa noi abbiamo tutte le caratteristiche per trovare una nuova dimensione chi come me ha qualche anno di più si ricorda che una trentina di anni fa ci dicevano ma la gente non vorrà più vivere in città vorrà la vita in città è troppo faticosa vorrà andarsene in campagna ecco la realtà ha dimostrato esattamente il contrario nel mondo la gente si concentra sulle città perché si concentra sulle città perché per tanti motivi ma io penso che le città siano un'occasione di condivisione delle risorse fondamentale dove la risorsa numero uno è la qualità della gente cioè noi perché vogliamo stare vicino agli altri perché gli altri sono un problema no perché gli altri sono una risorsa e questo è quello che la città dà per cui io penso che noi vorremmo continuare a vivere in una città il punto è che la vogliamo diversa il punto è che ci sono dei trend secolari che stanno attraversando la nostra contemporaneità e l'ambiente è lasciatemi dire anche finalmente diventato qualcosa che segnerà questa parte di percorso storico ma anche il ruolo della donna io sento che stanno cambiando alcune cose per fare un richiamo a quello che hai detto ma certamente le istanze di equità sociale sono profondamente più forti c'è un vento forte che spira si tratta di interpretare questi cambiamenti però guardate si tratta interpretarli non vuol dire descriverli tutti in tutto il mondo tutte le forze politiche parlano di ambiente di equità sociale tutti non è vero che non c'è più una destra e una sinistra ma voi guardate come sul tema dell'equità sociale si parla da una parte e dall'altra e tutti vogliono in padrone pensare di essere i portatori di innovazione da questo punto di vista chi vincerà e quali saranno le città che vinceranno e saranno io spero che vinca la politica credibile nel dire ti voglio portare da qua a qua e ti indico il percorso e ti accompagnerò nel percorso e ti garantisco per quanto è possibile che conosco il modo per fare questo percorso e per portarti lì questo deve essere Milano Milano deve avere la capacità veramente di depositare questa visione non un sogno una visione ma soprattutto un percorso di trasformazione che non butterà dove non verranno buttate via le nostre qualità e la forza del passato ma questa idea della trasformazione diventerà un principio fondamentale ora io credo che queste cose che vi sto dicendo sono cose anche di assoluto buonsenso non sono non rispondono a grandi elementi di originalità ma io vi chiedo solo da onorato sindaco di questa città di credere fortemente al fatto che possiamo farlo e che abbiamo tutte le qualità per ritrovarci ad essere una città la città ammirata che avevamo insieme creato e saremo diversi ma non ma non perderemo la nostra capacità di essere centrali io ci tengo molto questo e credo tutti noi essere centrali in un mondo che va alla ricerca di modelli positivi e modelli di cambiamento e questo è il nostro obiettivo il nostro obiettivo poi di pensare alle tante fragilità magari con iniziative come quella come la tua come Rubem in tanti altri modi il nostro obiettivo è di mettere mano ai problemi contingenti ma di non perdere la strada verso una visione lungo termine di cambiamento e chiudo dicendo una cosa rispetto al centro studi grande Milano guardate io trovo sempre un po' di fatica anzi a volte di fastidio di confrontarmi con chi alla fine balla per una sola stagione è capace di fare il fenomeno in un momento e poi scompare come si è presentato all'attenzione della collettività invece una grande stima per chi in maniera molto ambrosana è lì e insiste e insiste e insiste a volte anche noiosamente no no ma è così no a volte mi riferisco esatto ma ha questa capacità di continuare come un martello andare avanti sedimentare esperienza eccetera eccetera perché il cambiamento è bello ma richiede fatica richiede richiede esperienza allora io faccio un plauso a voi qui poi segnatamente a Daniela ma anche anche a Roberto perché è un'altra anima assolutamente fondamentale senza mancare di rispetto a chi non chi non cito perché voi veramente vi siete pian piano imposti come un punto di eccellenza della nostra città e come qualcosa che faccio un plauso ma vi invito in questo momento a dare anche di più perché c'è bisogno e perché noi possiamo e dobbiamo essere ancora più fieri della nostra città e la nostra città deve senza arroganza pensare che deve essere una città guida nel nostro paese e il mio impegno con voi è di cercare di portare avanti un'istanza politica che sia di esempio anche al nostro paese voglio pensare a Milano voglio dimostrare che la cosa importante è tornare a far funzionare velocemente per Milano ma un certo modo di essere un certo modo di fare politica quindi parlo del mio di mestiere come voi pensate del vostro mestiere ecco se a Milano lo si fa bene è un buon segno per il nostro paese grazie come si dice in gergo calcistico nazist Milano è una città generosa il vero milanese il Galcori Mann è colui che restituisce qualcosa a chi è stato meno fortunato di me o di noi comunque è sempre pronto a tendere la mano alle persone in difficoltà e credo che sia una città unica sindaco in tutta Italia non unica probabilmente no tante sono le persone che aiutano il prossimo però Milano è un po' particolare da questo punto di vista scusami ma quindi è valsa la pena di essere noiosa e di chiedere la ricandidatura del sindaco Sala grazie grazie naturalmente al sindaco grazie eccellenza Saccone ma adesso diciamo siamo alla fine abbiamo detto noi siamo abbastanza tetragoni anche negli orari e quindi siamo alla fine e iniziamo i conferimenti e mi alzo per la motivazione iniziando dalla motivazione a Tiziana Siciliano grazie sì a una grande lavoratrice madre orgogliosa di Sofia e Lorenzo a una donna di legge combattiva con sguardo capace di vedere dove gli altri guardano soltanto a un magistrato simbolo di tutela della salute e della sicurezza pubblica a un sostituto procuratore aggiunto dotato di doti umane di grande sensibilità che hanno fatto della sua persona una protagonista del travagliato percorso a difesa dei diritti inviolabili dell'uomo a Tiziana Siciliano il cui operato costante impegno rendono Milano più grande del mondo premio le grandi guglie della grande Milano una grande donna a Tiziana Siciliano per ragioni di covid viene accompagnata qua dai due cadetti non possiamo sentire grazie la foto forse quella è la motivazione con i riconoscimenti e se vuole se deve dovresti girarti tolgo la mascherina ringrazio davvero tutti sono onorata e certamente emozionata per questo riconoscimento a maggior ragione per il fatto che tutto sommato non capisco sono orgogliosa che voi riconosciate nel mio lavoro qualche cosa che meriti così tanta considerazione ma io credo di non aver fatto niente di più di quello che sentivo mio dovere fare e soprattutto niente di meno di quello che la collettività aveva l'assoluto diritto di pretendere da me questo l'ho vissuto come una una logica conseguenza del rapporto di amore profondo che mi lega al mio datore di lavoro l'unico datore di lavoro che ho la costituzione italiana non ne ho altri ma è un rapporto di amore così viscerale che ovviamente tutti i miei sforzi e il mio impegno possono essere soltanto dedicati alla alla celebrazione dei valori della della costituzione ciascuno dei quali continua a sembrarmi vivo importante unico faro delle nostre azioni come singoli cittadini e come collettività io penso che sia un momento difficile questo l'abbiamo detto tutti quanti ma a furia di ripeterlo non vorrei che diventasse l'unico pensiero e io non lo voglio come monopensiero io voglio un pensiero di recupero alla luce degli stessi valori perché l'unica preoccupazione reale che mi rimane è che grandi momenti di crisi che potranno anche essere una crisi economica una crisi finanziaria una crisi delle imprese possono poi comportare una facile autossoluzione per perdere di vista dei valori forse non così saldi io so perfettamente che andremo incontro a momenti opportunistici a momenti anche più cattivi cioè usciremo perché usciremo io credo anche presto dal dal covid io credo che non ci vorrà ancora molto importante è come ci usciamo allora avere dei valori chiari ben presenti di solidarietà di rispetto di ordine inteso come capacità di essere la base della sicurezza nostra e degli altri allora questo secondo me è un buon viatico per un percorso che potrà essere lungo e anche difficoltoso e voglio soltanto dire un'ultima cosa e concludo non amo neanche molto parlare pubblicamente ma mi fa piacere in questo contesto sono stati bellissimi i ragazzi che hanno parlato sono veramente meravigliosi e c'è una cosa l'unica cosa buona che trovo ci abbia portato il covid abbiamo fatto fuggire frotte di giovani dall'Italia come se fossero dei criminali latitanti convincendoli che per loro non c'era spazio non c'era posto non c'era futuro non c'era lavoro il covid senza volerlo ce li ha restituiti sono tornati indietro hanno chiuso le scuole all'estero i ragazzi sono tornati e sono tornati carichi beh allora non facciamoli spaventare un'altra volta la rinascita ha bisogno anche di loro e loro li abbiamo visti loro sono meravigliosi e ci possono forse dare una mano anche dove la nostra stanchezza magari sta cominciando ad affiorare grazie a tutti davvero sono davvero commossa e davvero onorata grazie passiamo alla seconda premiazione a un pugliese di nascita e milanese d'adozione che laureatosi al Politecnico entra nel corpo dei vigili del fuoco con passione da bambino all'ingegnere che con dedizione assoluta al suo lavoro intraprende una formidabile carriera in un corpo nazionale tanto amato perché è in grado di donare conforto sorrisi e calore anche nei momenti più drammatici della vita al comandante che con disciplina e perseveranza doti mai disgiunte da grande signorilità e sensibilità guida 4.000 uomini che operano quotidianamente al servizio degli altri al padre affettuoso uomo simbolo di sicurezza e affidabilità che ha fatto della dedizione al prossimo lo scopo della sua vita spesso impegnata in delicate missioni umanitarie all'estero a Dante Pellicano che con coraggio e altruismo offre a tutti un esempio illustre di umanità rendendo Milano più grande nel mondo premio le grandi guglie della grande Milano a un grande uomo a Dante Pellicano grazie sono onoratissimo emozionato emozionatissimo probabilmente l'altra premiata quindi il procuratore aggiunto dice non so il motivo per cui sono stata premiata vabbè fingeva ovviamente lo sa benissimo ha dei grandi valori ha dei grandi valori io lo so ma non parlo di me stesso perché io sono la sintesi dei valori la sintesi dei valori espressi dai miei vigili del fuoco ecco io lo so perché sono stato premiato io sono stato premiato per il loro merito per cui io rappresento questi vigili del fuoco e so quanto lavorano per la sicurezza della collettività una collettività ovviamente messa messa in difficoltà in questo ultimo periodo ne parliamo sempre ma mi permetto di riprendere le parole del sindaco lo faccio mi pregio di questa cosa dice nulla sarà come prima e giustamente aveva di che dire da questo punto di vista io confermo da parte mia lo dico sommessamente io credo che invece noi possiamo fare molto di più del resto ci aspettavamo una ripresa economica prima del covid volevamo tutti uno slancio e credo che questo slancio sarà e sarà fortissimo non facciamo altro che aspettare questo momento noi dobbiamo essere ottimisti nonostante ovviamente il momento che viviamo è molto difficile ne parlavo con Marco Riva prima di incontrarci qui parlavo di stanchezza lo hai detto tu caro rettore stanchezza dopo un anno la gente stanca però dobbiamo fare qualcosa dobbiamo fare probabilmente qualcosa di diverso io mi permetto perché sono uomo di sicurezza e dico che probabilmente la comunicazione forse l'abbiamo l'abbiamo messa un po' da parte abbiamo sottolineato troppo i decreti ma non abbiamo mai parlato al cuore della gente perché la gente è molto intelligente va guidata va guidata non soltanto con i decreti ma va guidata con una comunicazione importante perché ognuno di noi deve fare sicurezza dentro se stesso dentro la propria famiglia dentro la propria comunità e deve andare avanti con senso di responsabilità invece probabilmente questa collettività è stata un po' trattata male tra virgolette perché ovviamente sono state imposte delle cose oggi ci sono dei colori noi ovviamente siamo sensibili facciamo di tutto e sono sicuro che possiamo puntare sull'intelligenza della gente grazie Daniele Mainini per tutto quello che fai veramente grazie grazie a prefetto hai usato delle parole per me che veramente in questo caso sono io a dire che forse non meritavo io vi ringrazio tutti vi ringrazio e vi saluto ovviamente a nome di tutti i vigili del fuoco io li ho guidati questo sì credo di averli guidati anche bene ma loro sono bravissimi e sono con tutti voi grazie grazie davvero bene abbiamo rispettato l'orario adesso ci sarà se possibile una foto diciamo ricordo di questo bel momento ringrazio tutte le istituzioni grazie Daniele di questa grande e rinnovata ospitalità grazie prefetto per la importante presenza grazie a Beppe Sala perché me l'aveva promesso ed è rimasto con noi naturalmente grazie anche a nome degli autorevolissimi rappresentanti del centro studi che mi hanno rinnovato sempre di anno in anno la fiducia e anche per questo vi ringrazio e vi voglio un sacco di bene grazie e grazie ai premiati